Ciao e benvenuti su Top Tech Italia. In questo video vi presenterò stando ai nostri gradimenti personali le migliori batterie esterne del 2022. Siete pronti? Iniziamo! Al quarto posto abbiamo selezionato la batteria esterna Anker A1287. La batteria Anker è in grado di ricaricare praticamente qualsiasi dispositivo mobile. Questo è possibile grazie al supporto delle tecnologie Power Delivery e Quick 2. Il suo design piuttosto compatto la rende incredibilmente portatile. In questo modo potrete portarlo ovunque insieme a voi. È dotato anche di una porta USB di tipo C che supporta sia l'ingresso che l'uscita. In questo modo potrete caricare i vostri telefoni contemporaneamente ad alta velocità. Per garantire la sicurezza dei vostri dispositivi durante la ricarica Anker è dotato di un sistema di sicurezza multiprotect. Quest'ultimo protegge il dispositivo ad alta tensione. Se si dispone di dispositivi a bassa potenza, come altoparlanti e cuffie Bluetooth portatili, questo modello offre la modalità di ricarica di mantenimento. Quest'ultima è infatti sicura e ottimizzata. L'indicatore LED blu informa sullo stato e sul livello di ricarica. È sufficiente quindi premere il pulsante per visualizzare il livello residuo della batteria. Questa batteria esterna offre una capacità fino a 20.000 Ah. In questo modo potrete sfruttare appieno tutti i vostri dispositivi. Questo modello offre anche la ricarica rapida. Come sempre su Top Tech Italia, se volete avere maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche, beh, cliccate sui link nella descrizione. Mi raccomando. Al terzo posto abbiamo selezionato l'Audit HX200Q5. La batteria Audit è in grado di caricare in modo efficiente fino a 5 dispositivi contemporaneamente. Molto comodo quando si è in compagnia di amici. Questo è il motivo principale per cui molti utenti lo hanno adottato come il miglior powerbank del 2022. Questo modello incorpora una protezione IC intelligente. Ciò impedisce di affrontare sovraccariche e sovrattenzioni del dispositivo. Questo powerbank è a induzione e supporta ricariche wireless da 5 Watt, 7,5 Watt, 10 Watt e 15 Watt. In aggiunta è possibile ricaricare facilmente con la potenza massima supportata dal vostro dispositivo mobile. Un altro elemento interessante che notiamo in questa batteria esterna è la sua elevata capacità di 33.800 Ah. In questo caso è in grado di ricaricare rapidamente il vostro smartphone. Infine questo dispositivo è compatibile con Huawei, Samsung, Xiaomi, iPhone e altre marche meno conosciute. Al secondo posto abbiamo selezionato il powerbank Samsung EB-P5300. La batteria Samsung EB-P5300 ricarica rapidamente l'energia dei vostri dispositivi compatibili mentre siete in viaggio. Si tratta infatti di un modello che offre una capacità di 20.000 Ampere, consentendo di alimentare i telefoni cellulari più volte nell'arco della stessa giornata. Questa batteria può essere ricaricata con una potenza di 25 Watt in modo da essere rapidamente pronta all'uso. Questo modello Samsung incorpora standard quali Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging e Power Delivery 3.0. Questo garantisce una ricarica rapida e sicura per tutti i vostri dispositivi. Grazie alla capacità di ricarica a tre porte, questo powerbank ricarica facilmente e rapidamente fino a tre dispositivi mobile contemporaneamente. Dal punto di vista del design, questa batteria ha un aspetto elegante, metallico e sottile, grazie al suo moderno display a LED in forma sullo stato di ricarica del dispositivo. E vi ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato per voi su internet, cliccate sui link nella descrizione, mi raccomando. Al primo posto abbiamo selezionato il powerbank Beezus. Dopo essersi guadagnata il titolo di migliore batteria esterna del 2022 in questo confronto, la Beezus Powerbank si fa subito notare per la sua tecnologia VPS. Il suo ruolo è quello di regolare quindi in modo intelligente la tensione di uscita, la corrente e la distribuzione dell'energia. Questa tecnologia aumenta l'efficienza di conversione della ricarica del prodotto, aumenta anche la sicurezza e abbassa la temperatura. Il design di 18 mm e un peso davvero ridotto la rendono molto facile da portare in giro. In questo modo non aggiungerà un ulteriore carico ai vostri effetti quotidiani. Premendo semplicemente il pulsante si attiva l'indicatore del livello di ricarica. In questo modo la tensione, la corrente, la potenza e il tempo rimanente possono essere visualizzati in modo affidabile sul display a LED. Questo modello Beezus incorpora un ingresso USB di tipo C che consente di ricaricarlo completamente tramite un caricatore da 65 W. Il tutto in appena 1 ora e 15 minuti. Ora quello che ti invito a fare è molto semplice, iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella e segui tutte le novità targate Top Tech Italia. Alla prossima, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!